ok ragazzi oggi vorrei già farò il trailer ufficiale di psego accanto nel 15 credetemi ragazzi che tra tutti gli accanti ho avuto e ho studiato questo è veramente impressionante e sembra un miracolo diretto veramente e arriverete a creare l'embo proprio senza nessuna manipolazione niente ma guardate veramente come si svolge tutto il tutto sia un mazzo di carte che si può mescolare il chiedere sulla cortesia a manuela tutte carte chiaramente diversi di formaggio di carte regolari manuela mi puoi dire una carta da gioco libera quella che vuoi tu due di quali vuoi cambiarti va bene ok una persona che due di quali oggi e sarà dentro questo non voglio sapere dove si trova anche perché la carta sarà libera e scelta ora io voglio dire se indovina manuela in che posizione si trova il due di quali quindi lo spettatore diventa veramente una persona psycho ok manuela dice un numero da una 52 libero 12 vuoi cambiarlo no ora non sappiamo dove si trova dentro non sappiamo niente è ovvio ma io lascerò il mazzo avrò gli spettatori dei prestigiatori non scettici scettici non importa tutti qui con le fonti puntati io non toccherò le carte niente e chiederò mi puoi ripetere la carta che hai scelto prego numero posizione 12 grazie guardate moltissimo 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 questa la dodicesima carta sacco accanto ciò che avete visto lo farete voi ogni volta cento per cento credetemi credetemi che con tutti i cellulari puntati voi farete sognare la gente rimarrà la bocca aperta questo è il mio account personale che lo sto donando lo faccio al cento per cento le volte quando mi chiedono di farmi un effetto che mi pare di mamma ragazzi chiudere il nostro comprate